Ciao a tutti amici di XtremeHardware.com e ben ritrovato dei nuovi video unboxing Dopo diverso tempo torniamo a parlare dei prodotti Gamdias e oggi lo faremo in questo veloce video unboxing con lo Zeus P1 RGB un nuovo mouse da gaming con appunto la ormai classica caratteristica della retroillumazione di tipo RGB dotato di un sensore ottico e di diverse funzioni che vedremo velocemente in questo unboxing e poi in maniera più dettagliata nella recensione scritta sul nostro sito partendo velocemente dalla confezione, classica confezione in stile Gamdias nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del modello del mouse con alcune icone relative all'immagine illustrativa dello stesso le caratteristiche tecniche principali nel retro della confezione ulteriore immagine illustrativa con ulteriori caratteristiche e qui la descrizione delle principali funzionalità di portate in diverse lingue tra cui anche l'italiano, lateralmente altri dettagli e altre caratteristiche all'interno della confezione troveremo semplicemente un classico manuale di istruzioni che ci spera un po' velocemente il funzionamento dei principali tassi e funzioni del mouse riportato anche in italiano, sottolineiamo a dirlo e infine il mouse stesso, il Gamdias Zeus P1 RGB possiamo osservare subito come le dimensioni siano medie quindi la presa ideale che suggerisce immediatamente il mouse è quella palm grip è possibile adottare anche una fingertip ovviamente anche visto il peso del mouse che si attesta a circa 125 grammi non conviene o comunque non è ideale per prese di tipo claw grip la colorazione è interamente di colore nero quindi per rendere il mouse come sempre classico ed elegante partiamo dalla parte superiore e precisamente dal d'urso dove troviamo il logo della Gamdias che verrà retroilluminato da una retroilluminazione di tipo RGB che potremo impostare tramite il software di gestione ERA a seguire troviamo già due primi tasti per lo switch di DPI più uno piccolino che potrà essere assegnato sempre tramite il software di gestione dal computer eventualmente a qualunque funzione noi vorremo a seguire classica rotellina di tipo cliccabile con una superficie di tipo trasparente quindi per garantire maggiore illuminazione di tipo RGB o comunque del colore che sceglieremo due classici tasti dovrebbero montare i classici switch Omeron per garantire massima affidabilità e durata e troviamo anche il logo del mouse sul tasto sinistro ci spassiamo nel lato di sinistra dove possiamo osservare un inserto che ci permetterà di poggiare in mouse per dare maggiore comodità durante le sessioni di gioco e per ovviamente cliccare quando necessari due tasti laterali in gomma con una superficie texturizzata e questa superficie gommata la possiamo vedere che arriva anche nel lato di sinistra dove non sono presenti altri tasti se riusciamo a vedere se riuscite a vedere possiamo anche vedere l'aggiuntura delle due parti superfici in gomma troviamo anche questo inserto superiore e inferiore in plastica da cui verrà irradiata l'illuminazione del mouse una volta collegato al computer ci spassiamo nella parte frontale dove possiamo osservare meglio il design dello stesso a seguire passiamo nella parte inferiore dove troviamo un mouse fit di medie dimensioni nella parte inferiore e due più piccoli nella parte superiore il sensore è posizionato leggermente nella parte alta è un sensore ottico è precisamente un Pixart PMW3336 è una variante del 3330 e potremmo impostare i dpi fino a 12.000 il profilo di default è settato a 1600 ma ovviamente potrete diminuire o aumentare a seconda delle necessità il cavo dello Zeus P1 RGB è dotato rivestito in treccia di tessuto e il connettore dell'usb del stesso mouse è placato oro con questo è tutto vi rimandiamo dunque alla recensione scritta del mouse sul nostro sito www.ximardor.com con questo è tutto e un saluto allo staff e un saluto